Panther, non sarà una passeggiata a combattere contro Krillie e ora vediamo come se la cavano i nostri due primi sfidanti Ti darò una bella lezione, così la prossima volta ci penserai molto bene prima di scriverti In queste importanti manifestazioni non c'è posto per i moscerini come te Oh mamma, con un tantorone del genere non posso usare tutta la mia potenza Una volta lanciato all'attacco, niente e nessuno può più fermare Panther è ferocissimo Molto bene, possiamo dare inizio a questo primo incontro Visto, nonostante la mia mole sono agilissimo nei movimenti quindi per il tuo bene ti consiglio di stare in guardia, Nanetto è inutile che tenti di scappare, non potrai mai sfuggire Quanta pazienza, no, non vado da nessuna parte, tranquillo Dai, non fare quella faccia, voglio darti una possibilità Io resto fermo e tu devi cercare di colpirmi, ti renderai conto di quanto sono forte Coraggio, non esitare, colpisci mi sulla pancia, forza Allora che aspetti, muoviti Ecco, ti accontentato Hunter è fuori dal ring Il concorrente è uscito dal limite consentito, ciò significa che Krillie vince il primo incontro Bravo Krillie, vince il primo incontro Urra, urra, ce l'ha fatta Sei forte papà, bravo, bravo Che cosa ti dicevo? Grandioso, esattamente come mi aspettavo Erano anni che non vedevo un campionato mondiale così emozionante Aspionante